Dopo due anni di stop per pandemia Rocca Costanza torna a essere il teatro del Paglio dei Braceri. Ultimi preparativi nel fossato della Rocca e in piazzale Matteotti per quella che sarà l'edizione della ripartenza. Il decimo capitolo della Corsa delle Contrade si riprende da dove si è interrotto dal 2019 quando vinse Santa Maria dell'Arzilla detentrice del Paglio 2019 e anche vincitrice di tre edizioni. E poi ancora Villa Ceccolini, Villa San Martino, Pantano, Case Bruciate, Muraglia, Tombaccia, Villa Fastigi, Santa Veneranda, Monte Granaro, Centromare, Soria e Vismara. Contrade che muoveranno in corteo dai rispettivi quartieri domenica verso la Rocca quando alle 17 si svolgeranno le quattro batterie di gara per decretare le quattro contrade finaliste. La finale sarà attorno alle ore 19. Velocità, forza, potenza e equilibrio ma anche bellezza. Quella del concorso Mispaglio che torna parallelamente alla manifestazione con l'organizzazione di Lorenzo Bernardini, air stylist. Ma è un'area quella di piazzale Matteotti che già da ieri ha cominciato a popolarsi dei primi eventi preparatori al Paglio della Domenica. Tutta l'area sarà suddivisa comunque sia per isole tematiche e abbiamo un'area dedicata alla musica e i ragazzi dello staff Cherie porteranno comunque sia band e DJ del nostro territorio. Abbiamo un'area votata a una zona ludica dove ci saranno dei tornei di biliardino, tiro la fune, un gioco nuovo per i bambini che si chiama Accendi il bracere e poi abbiamo l'area gastronomica che è tipica del Paglio. Quest'anno non saranno più tante contrade divise in stand ma ci sarà uno stand unico gestito proprio dalle contrade dove porteremo tanti prodotti del territorio e tante ricette buonissime che tutti potranno mangiare mentre bevono una buona birra e ascoltano della musica. E' dunque uno stand gastronomico unico per tutte le contrade anche perché a deliziare i palati ci penseranno le pizze e pizzette Rossini. Ricordiamo infatti che eccezionalmente quest'anno la decima edizione del Paglio dei Braceri è abbinata alla terza edizione del Festival della Pizza Rossini, dal Festival della Pizza Pesarese che è già cominciato ieri sera. Il Festival della Pizza Rossini avrà anche qui una suddivisione perché all'interno di stare avremo un'area ristorante gestita dal Ceronavolta, la pizzeria una delle più famose di Pesaro che cucina la sua buonissima pizza Rossini, poi un'area ludica dove porteremo all'interno dei contest ovvero il divoratore di Rossini, anche questo un bellissimo contest che ha spopolato quindi a chi mangia più pizza Rossini e la miglior pizza homemade, quindi i cittadini potranno venire lì con i propri ingredienti e preparare la propria pizza e ci sarà una giuria che giudicherà la miglior pizza homemade del 2022 e poi il concorso, il concorso che è un concorso online che decreterà la miglior pizza al taglio o a colazione, quindi la pizzetta o al piatto. E dunque anche in questo venerdì sera appuntamenti e gare al sapore di uovo e maionese, sabato sera alle 21 la gara dei divoratori di Rossini, domenica la premiazione delle migliori pizze Rossini alle 21 subito dopo alla premiazione del Paglio dei Braceri.